Musica Ben ritrovati al TG Liss della Giunta Regionale di Basilicata. Si è tenuto a Bruxelles l'ultimo incontro su Matera 2019 con la giuria della Commissione Europea che monitora le capitali europee della cultura. L'incontro aveva una duplice importanza, sia per l'aggiudicazione del premio Melina Mercouri di un milione e mezzo di euro, sia per comprendere meglio i punti di forza del lavoro finora svolto. Nelle prossime settimane ci saranno cinque conferenze stampa in cinque posti diversi d'Italia. L'apertura del nuovo tratto bradanica sulla strada statale 655 rappresenta un passo importantissimo e ci consente di riavvicinare l'area del metapontino Matera e Foggia. Lo ha dichiarato l'assessore regionale Carmine Miranda Castelgrande, commentando con soddisfazione l'apertura al transito di otto chilometri annunciata da ANAS, grazie all'impegno sinergico di Regione, ANAS e sindacati. Spero che il Comune di Matera si adoperi con celerità al rilascio del permesso per la realizzazione della nuova mensa per i poveri, intitolata a Don Giovanni Mele, nel quartiere Piccianello di Matera. Questa la dichiarazione dell'assessore regionale Roberto Cifarelli. Il primo obiettivo è ridare l'acqua ai cittadini e farlo in sicurezza e con la certezza dei dati. Lo ha detto il Presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, al tavolo regionale per fare chiarezza sulla sospensione dell'acqua in alcuni comuni del metapontino. Al tavolo hanno preso parte l'ARPAB, l'ASM, Acquedotto Lucano e il Dipartimento Sanità della Regione Basilicata. Ho chiesto ulteriori campionamenti urgenti e sigo, ha aggiunto Pittella, che gli enti preposti allineino le metodiche di analisi per dare risposte univoche senza generare confusione. Continuare la politica di aiuto ai giovani agricoltori lucani Under 40 per stimolarli ad avviare nuovi progetti imprenditoriali per i quali rendiamo disponibili ulteriori 10 milioni di euro. Lo rende noto l'assessore alle politiche agricole e forestali Luca Braia. Con un bando abbiamo voluto destinare un'ulteriore posta finanziaria per almeno altri 150 giovani lucani. La data di presentazione della domanda è fissata per il prossimo 25 giugno 2018. Ed era questa l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Grazie per averci seguito.